A emigratis tre Michele dell'olio stupisce il pubblico, cosa fatto con Pio e Amedeo sotto una spessa coltre di trash, doppi sensi e beata ignoranza, emigratis continua a regalare al pubblico grandi gioie e si dimostra essere un programma Più educativo di tanti altri, nella puntata del 2 aprile, per celebrare come si deve la giornata mondiale dell'autismo, Pio e Amedeo hanno realizzato i sogni di Michele dell'olio e commosso gli spettatori per il loro gran cuore Michele è un ragazzo con incredibili capacità matematiche in cerca soltanto di qualche coccola così il duo di comici foggiani, gli fa incontrare che lo ricopre di abbracci e dolci carezze, qui il video, ma anche la sosia dell'attrice a luci rosse Valentina Natti Pio e Amedeo portano con loro Michele a Las Vegas per un irresistibile remake di Rain Man con Tom Cruise e Dustin Hoffman e riescono a farlo assistere ad una partita NBA grazie alla generosità di Danilo Gallinari Commozione a Immigratis 3 Michele dell'olio felice per aver realizzato il suo tenerissima, infine, la scritta sulla sabbia, che bello, a conclusione di un'avventura magica e speciale che Pio e Amedeo hanno condiviso con Michele dell'olio a Immigratis 3 Senza ombra di dubbio da più parti è stata definita la puntata più bella in assoluto perché i comici non hanno mai trattato diversamente il ragazzo affetto da autismo, anzi hanno pesantemente scherzato strappando a lui ben più di un sorriso e agli spettatori la speranza di non aver paura di interagire con chi ha una sensibilità molto più spiccata della grande maggioranza di noi Sono piovuti commenti più entusiastici sui social Daniel ha scritto, posso dire forse la puntata più bella di Immigratis, da quando lo seguo, dall'inizio Vi sorrida sempre e Maria Rosa fatto sapere ancora, avete reso felice Michele? Non sapete quanto sia importante? Per questi ragazzi che si interagisca con loro in maniera naturale, semplice e spontanea, guarda la fotogallera A presto! Grazie a tutti